Kate, la duchessa di Cambridge e il principe William conducono con i loro tre figli uno stile di vita che sarebbe stato completamente impensabile anche una generazione prima, ha detto un esperto reale. La duchessa di Cambridge, 40 anni, è stata avvistata mentre arrivava in Scozia su un volo economico insieme ai suoi figli. La famiglia ha fatto il viaggio fino a Balmoral giusto in tempo per una breve vacanza prima della ripresa della scuola, la regina, 96 anni, sta trascorrendo le sue vacanze estive nella tenuta della famiglia reale della Berdinshire. Punto punto. Kate è stata vista domenica lasciare un volo economico con i due figli più piccoli del duca e della duchessa di Cambridge. Aveva la principessa Charlotte, 7 anni, e il principe Louis, 4, al seguito, ma si pensa che il principe Giorgio, 9 anni, abbia viaggiato con il principe William. L'esperta reale Daniela Elser ha descritto la commovente simmetria tra i Cambridge e la defunta principessa Diana, che secondo lei rendeva possibile l'attuale unità familiare, ha scritto sul New Zealand Herald, per la seconda volta negli ultimi tre anni, la futura regina di Gran Bretagna e i suoi bambini sono stati ripresi dalla telecamera mentre sbarcavano da un volo economico all'aeroporto regionale, a Verdeen, mentre si dirigevano verso la vicina vasta tenuta della regina, Balmoral. La clip di 15 secondi, condivisa tramite, dove altro. TikTok, aveva già raccolto 1,8 milioni di visualizzazioni nel giro di pochi giorni nonostante fosse un video di persone che camminano. Kate, con indosso gli occhiali da sole, qualcuno ha detto modalità vacanze. Può essere vista mentre tiene la mano della principessa Charlotte mentre la tata di lunga data della famiglia Cambridge Maria Turrion Borrallo e il principe Louis li seguono. Un uomo in giacca e cravatta, che potrebbe essere un ufficiale della protezione privata, si precipita dietro portando una borsa che sembra contenere una racchetta da tennis, ha poi detto, ciò che è straordinario è come l'intera situazione sia semplice e discreta, nessun personale di terra in genuflessione o hostess che si inchinano. Ha poi aggiunto, e questo semplice momento non sarebbe potuto accadere senza una persona, e una sola persona. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!